Sindaco, qual è la situazione a Campli dopo le frane dei giorni scorsi? Sì, la situazione rimane molto grave, di emergenza, tra l'altro dopo l'ultima pioggia di mercoledì ho dovuto evacuare anche un parcheggio antistante, diciamo, la zona rossa di Castelnuovo di Campli. Abbiamo iniziato dei lavori di reggimentazione delle acque con una somma urgenza, ma c'è bisogno di un intervento da parte della Regione, del Governo, affinché si faccia un intervento strutturale, affinché questa frana non si estenda ulteriormente e vada a pregiudicare altre abitazioni. Voglio ricordare che ad oggi abbiamo 120 sfollati e quindi bisogna intervenire immediatamente per evitare che la cosa degeneri. Dopo le iniziative dei giorni scorsi, dopo la manifestazione di Roma, è cambiato qualcosa? Vi aspettate ovviamente le risposte dal Governo e anche dalla Regione? Allora, al momento non abbiamo avuto le risposte, attendiamo il 20 che c'è la riunione in commissione per l'accoglimento degli emendamenti. Mi dispiace molto per il fatto che il Governatore Dalfondo ha avuto un incontro con la Boschi a Roma insieme ad alcuni sindaci per parlare delle frane, io non sono stato coinvolto, anzi voglio fare un appello al Governatore affinché ogni iniziativa che venga fatta per quando attiene il rischio idrogeologico venga coinvolto anche i campi, la sua cittadinanza, la mia persona, che sono il sindaco, affinché posso monitorare e controllare quello che si fa. Quindi questo è un appello che voglio fare e spero che il Governatore mi coinvolga perché, a dir il vero, lui è anche venuto in un consiglio straordinario dando ampie garanzie a tutti i cittadini camblesi, questa volta secondo me ci ha un po' delusi, però c'è tutta la possibilità di recuperare.